Musica Dal libro del profeta Isaia Tu, Signore, sei nostro Padre Da sempre ti chiami nostro Redentore Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle Tue vie E lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema Ritorna, per amore dei Tuoi servi Per amore delle tribù, Tua eredità Se Tu squarciassi i cieli e scendessi Davanti a Te sussulterebbero i monti Quando Tu compivi cose terribili che non attendevamo Tu scendesti e davanti a Te sussultarono i monti Mai si udì parlare da tempi lontani Orecchio non ha sentito Occhio non ha visto che un Dio, fuori di Te Abbia fatto tanto per chi confida in Lui Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia E si ricordano delle Tue vie Ecco, Tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di Te da lungo tempo E siamo stati ribelli Siamo divenuti tutti come una cosa impura E come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia Tutti siamo avvizziti come foglie Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento Nessuno invocava il Tuo nome Nessuno si risvegliava per stringersi a Te Perché Tu avevi nascosto da noi il Tuo volto Ci avevi messo in balia della nostra iniquità Ma, Signore, Tu sei nostro Padre Noi siamo argilla e Tu colui che ci plasma Tutti noi siamo opera delle Tue mani Qualche domenica fa abbiamo ascoltato la parabola delle dieci vergini Le cinque stolte e le cinque sagge Ma tutte, senza distinzione, nell'attesa dello sposo Si addormentano A mezzanotte si alzò un grido Che le svegliò Nella vita il sonno prende sempre il sopravvento Prevale Per tutti Anche per noi oggi Per questo la liturgia ci offre Nel profeta Isaia Quel grido Quel grido che ci desta Che ci sveglia Dal nostro sonno Ci risveglia perché Si rinnovano le promesse Si rinnova La sicurezza La certezza Che Dio viene Che il Signore viene È qui In questo avvento vorremmo insieme Lasciarci destare Da questo grido Da questo grido potente Che la liturgia ci offre ogni anno Nel tempo di avvento Abbiamo bisogno di un annuncio Per metterci in attesa Per accogliere Una nuova venuta del Signore Quella proposta È una pagina Che probabilmente risale All'inizio Dell'esilio Del popolo di Israele Una condizione Quella che Israele Sta vivendo Che riconosce essere frutto Anche Delle sue scelte È fuori Dalla terra Dalla terra Promessa Ha perso La libertà Donata Guadagnata Con l'Esodo E Di fatto Questa situazione È ciò che Si è causata Si è determinata Perché il popolo Si è allontanato Dall'alleanza Ha servito gli idoli Si è nutrito Di ribellione Facendo memoria Però Degli interventi Di Dio Il popolo Osa chiedere Un suo Nuovo Intervento Una sua nuova Manifestazione Potente Ecco allora Quel grido Quell'invocazione Ritorna È il verbo Della conversione È il verbo Appunto Che invita A volgersi Dall'altra parte A cambiare A volgersi Di nuovo Perché altrimenti Riconosce il popolo Noi vaghiamo Perché altrimenti Si indurisce Il nostro cuore Ritorna Ritorna Per amore Avresti Mille motivi Mille ragioni Per abbandonarci A noi stessi Da te Non possiamo Pretendere Nulla Vista La considerazione Che abbiamo avuto Di te Della tua parola Della tua Alleanza Finché le cose Ci andavano bene Ti abbiamo riservato Uno spazio Sempre più marginale Un contentino Oggi Un pensiero Domani E la profezia Che abbiamo Ascoltato È raccolta Da una ripetizione All'inizio E alla fine C'è una stessa Frase Che ritorna E che è la chiave Per comprendere Questa profezia Ma tu Sei Nostro Padre Ti riconosciamo Nostro Padre Su questo Noi contiamo Qui abbiamo Appeso La nostra Speranza Che il tuo cuore Sia abitato Da un amore Gratuito Sia abitato Da una cura Paziente Ti chiediamo Di mostrarci La tua paternità Desidero O Signore Desidero io Lo desideriamo Ciascuno di noi Con forza Che il calore Del tuo amore Mi Ci raggiunga E ci faccia sentire Che sono figlio Che sono figlia Ti permetto Ti permetto Di amarmi E l'immagine Del padre È unita A quella Del vasaio L'artigiano Dalle mani Esperte E se il padre Richiama L'origine Dell'esistenza Il vasaio Dice il lavorio Della paternità La sua opera È frutto È frutto di un lungo È questo Lo stupore Che dovrebbe Prenderci In me Come in ciascuno Traspare la geniale L'originale Azione creatrice Del padre Tutti pezzi Unici Chi lavora L'argilla Al tornio Narra Che la pressione Delle mani E delle dita Sulla materia Informe Deve essere Decisa E delicata Insieme E ciò È possibile Solo Quando L'argilla Non si indurisce Quando Rimane Morbida Magari Aiutata Dall'acqua Questo Nostro Tempo Come Ogni Situazione È Azione Del Signore Su di Noi Un'azione Decisa E Delicata Forse In questo Tempo Ci siamo Un po' Amorbiditi Per quello Che ci è Accaduto E ci sta Accadendo Il calore Delle mani Ha bisogno Nello stesso Tempo Dell'abile Scorrere Delle dita E L'opera Alla fine Porta Fissata In sé L'impronta Dell'artista Il profeta Ci mette In bocca Parole Che l'orgoglio Spesso Fa morire In cuore O sulle labbra Nessuno Tranne Te O padre O papà Può agire Così Chi Se non Te Sì Grazie a tutti.